buongiorno ragazzi questa è una guida per imparare a usare il il sito zigote body quello che ci fa vedere il corpo umano i muscoli e le ossa ecco cominciamo a cercare quindi scriviamo qui zigote body con la y io già l'avevo cercato quindi me lo dà già come suggerimento chiamo la ricerca eccolo qua il primo zigote body.com e clicchiamo si apre subito e si carica senza doversi scrivere niente quindi è più semplice anche di quello che usavo fino all'anno scorso che si chiamava bio digital appare la figura di una donna qui possiamo scegliere adult female quindi la donna o anche l'uomo diamo la conferma e vedete così cambia diventa un nuovo lo posso già girare con il mouse clicco sul sinistro oppure qui su con le freccette gira a destra gira a sinistra scende e sale e con la casa ritorno al centro allora ho scelto l'uomo voi potete scegliere quello che volete adesso qui spostando questa questa striscetta si cambiano alcune cose sull'immagine io però invece di spostarla in basso in alto vado qui dove c'è questo meno a sinistra in basso clicco qui adesso la possibilità diventa di spostare verso sinistra o verso destra lo spostiamo questo il primo tutto a sinistra poi quello dei muscoli lo lasciamo qui questo delle delle cartilagini e delle ossa li lasciamo qui a destra mentre leviamo gli organi interni quindi non verranno mostrati nell'immagine il cuore e i vasi sanguigni quest'altro che dovrebbero essere i vasi linfatici e il cervello ok sono rimasti i muscoli quindi così posso vedere il corpo umano con i suoi muscoli vedete se clicco su un muscolo per esempio sul gluteo mi evidenzia e mi accende il gluteo poi clicco un'altra volta e si sposta quindi che posso vedere più e meno posso ingrandire oppure posso ingrandire anche con la rotellina del mouse avanti e indietro quindi ecco per esempio voglio sapere che nome che muscolo è questo tic pettorale ok poi posso fissarlo e quindi quando lo giro rimane fissato con questo questo segno qua lo tolgo e ritorno a normale ecco questo per vedere i muscoli poi ritorno sempre alla home a casa e ritorno a piccolo allora se io voglio vado a togliere i muscoli quindi questo segno qui questo in alto lo sposto tutto a sinistra togli i muscoli e siccome avevo tolto anche tutti gli altri organi mi rimangono solo le ossa e le cartilagie quindi posso andare a guardare le ossa posso ingrandire avvicinare ed ecco che andiamo a cercare i vari vari nomi questa è la clavicola l'unica cosa è che sono in inglese quindi però si somigliano molto all'italiano quindi ecco qui clavicola rib sono le costole e l'omero mi sposto su e giù giro e mi posso guardare tutto quanto lo scheletro andiamo alle gambe bene studiare andare a a leggere quale sono le ossa delle gambe ok questo è il modo di utilizzare questo sito facendo destra e sinistra metto e tolgo i muscoli qui levo e metto le cartilagini vedete queste in bianco che collegano le varie ossa sono cartilagini quindi se io levo queste sono le cartilagini mi scompaiono piano piano vedete metto le cartilagini e i legamenti e le levo però io preferisco lasciarle insieme alle ossa magari un po ecco così o i legamenti e qui si sono le ossa quindi se levo le ossa non ci rimane praticamente niente ho levato tutto tutto qua quindi andatevi a guardare questo sito che è molto interessante e molto utile per imparare un po di anatomia grazie a tutti